Sul brano di Vangelo di oggi occorre spendere qualche parola in più. Il brano delle Beatitudini, tra la versione di Matteo e quella di Luca, vi sono diverse differenze. Questo dovrebbe scandalizzarci, ma i Vangeli dovrebbero essere uguali, no? Non direbbe, ma no, semplicemente ci ricorda che Luca e Matteo, pur essendo evangelisti, non erano fatti con lo stampino. I Vangeli che hanno scritto risentono anche della loro sensibilità, della loro cultura, del fatto che scrivono anche a destinatari differenti. Accade anche a noi. Quando assistiamo con altre persone ad un evento, è il nostro modo di percepirlo e anche di raccontarlo a diverse sfumature. Perché dipende da come ognuno che ha visto quell'evento, che ha vissuto quell'evento, lo legge, lo interpreta, in base a quella che è la nostra sensibilità. La prima differenza che si nota tra le due versioni è che in Matteo Gesù pronuncia il discorso delle Beatitudini su un monte, mentre Luca, come leggiamo oggi, fa parlare Gesù in un luogo pianeggiante. Il monte rappresenta un luogo di arrivo, una meta. La pianura è un luogo di partenza. La prospettiva di Luca è diversa da quella di Matteo. Voi direte, sì, ma allora dove ha parlato davvero Gesù? Su un monte o in una pianura? Non importa. Ciò che conta è il contenuto del discorso. Però per Luca le Beatitudini sono un punto di partenza. Per Matteo un punto di arrivo. C'è un altro elemento che differenzia i due evangelisti. Luca aggiunge una parola che ricorre più volte. Ora. Beati voi che ora avete fame. Beati voi che ora piangete. Guai a voi che ora siete sazi. Guai a voi che ora ridete. Luca ci sintonizza con il presente. Mette l'accento sul presente. Sull'oggi, sull'adesso, sull'ora. Oggi stai vivendo certe fatiche e ora e adesso che devi scoprire che Dio è presente. Che Dio è accanto a te. Che Dio ti aiuta a guardare le cose da un'altra prospettiva. Da un'altra angolatura. Dio non lo incontrerai solo un domani nell'aldilà, nel paradiso, dove troverai consolazione e gioia. Ma Dio è qualcuno che possiamo incontrare già ora, già adesso. Non è solo questione di un domani lontano. Non basta credere che un domani incontreremo Dio. Ma ne ho bisogno anche oggi. Anche oggi, anche ora, ho bisogno di percepire la sua presenza, la sua compagnia, la sua vicinanza, la sua salvezza, il suo conforto. Luca sembra suggerirci che siamo felici, che possiamo essere felici già oggi, se tra le vicende dolorose e problematiche della nostra esistenza impariamo a confidare in Dio e non solo in noi stessi. Beati voi, vuol dire felici voi. Guai a voi che ora siete sazi. Guai a voi che ora ridete. Con questi guai Luca sottolinea che non possiamo contare solo su noi stessi, sulle nostre forze, perché così non si va lontano. Subito pensiamo di essere dei grandi, ci sentiamo forti di noi stessi, ma ben presto si capisce che le nostre forze, per quanto importanti, non sono sufficienti. Ce lo dice la vita. C'è chi deride, chi crede in Dio, perché pensa che il credere sia una specie di debolezza o qualcosa di inutile, un'illusione, mentre ci si deve sentire forti di noi stessi, dei nostri mezzi, della nostra intelligenza, della scienza, del progresso, dell'econologia, delle proprie sicurezze materiali. Ma arriva prima o poi il giorno nel quale scopri che tutto ciò non regge, non basta. Proprio sulla scia di quanto ho appena detto, non aspettiamo di trovarci con l'acqua alla gola per andare da Dio, per ricorrere a Lui. Per carità, Lui è pronto ad accoglierci sempre, anche all'ultimo, all'ultimo istante, ma non aspettiamo chissà quale momento difficile per ricorrere a Dio. Ma facciamolo già ora, già adesso. Non aspettiamo che ci muoia qualcuno, non aspettiamo una malattia, una disgrazia, non aspettiamo di andare in crisi o di diventare anziani, di giungere alla soglia della nostra morte per riscoprire Dio. Ma facciamolo ora, ogni giorno, sempre, anche quando tutto sommato le cose sembrano andare bene. Gesù quelle parole le ha dette davvero, ma Luca desidera sottolinearne un aspetto, che valgono non solo per il futuro, ma anche per l'oggi, non solo per quella gente che era lì, ma anche per me. Buona giornata.